Si spaccia per un funzionario pubblico e dopo insistenti telefonate riesce a convincere un pensionato a sottoscrivere un abbonamento per una rivista inesistente, portandogli via così diverse centinaia di euro. Ancora una truffa ad un anziano, questa volta fortunatamente conclusasi con una denuncia. È successo a Montevarchi dove un pensionato, dopo aver ricevuto moltissime telefonate da una persona che si spacciava per cancelliere del Tribunale di Milano, ha accettato di sottoscrivere un abbonamento triennale ad una rivista che per oggetto aveva le forze di polizia, una rivista in realtà però mai esistita. L'anziano ha così effettuato il bonifico di 400 euro per la quota annuale di iscrizione, ma dagli a poco il truffatore ha fatto perdere le sue tracce. Così l'anziano ha presentato denuncia ai carabinieri di Levane, i militari dell'arma, grazie ad accertamenti scrupolosi, sono riusciti a risalire all'identità del malfattore e per lui è scattata la denuncia per i reati di truffa ed usurpazione di funzioni pubbliche. I carabinieri infine ricordano che sono numerose le richieste di abbonamenti tramite telefono, ma che tale modalità non è adoperata da nessuna rivista ufficiale correlata alle forze di polizia, per cui è bene diffidare da tali comportamenti commerciali scorretti.